Signorotti, Hakuna Matata ben ritrovati dal vostro ricevere 89, siamo tornati qua su un nuovo video di Deadpool Subito un bel pollicione in su, subito un bel commentino con questa musica incredibile, vi stavamo aspettando Paragatui sulle spalle e le sgoni, siamo subito a questo episodio Prima di iniziare, allora, perché fanno una seconda cosa? Ma no, io sono abbastanza sicuro ragazzi che ci dobbiamo potenziare su questa roba qua E io in questo episodio voglio potenziarmi sta roba qua E dato che qui non ho nient'altro, andiamo su potenziamenti, giocatore, aumentiamo Mamma mia ragazzi, ci stiamo potenziando molto forte, voglio vedere qua che cosa succede, non me lo ricordo assolutamente Però penso che sia una parte importante, no? Ok Io qualcosa, cioè raga mi ricordo che è figo ma non mi ricordo che cos'è Assolutamente Ok Oh 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 mio dio Oh 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 Beh Però la signorina è stata abbastanza antipatica Ah ok Ragazze corteggiate Quindi c'è anche un obiettivo E queste non me la fa fare Quindi queste le abbiamo fatte Ma Ragazzi questo per me è un insulto Madonna quante ne so Ma poverino Ah ci stanno Per muoverti sinuosamente Grazie Quindi Sei di otto Ma voglio farle tutte Perché non le avevo mai fatte Quindi Ora me ne mancano un paio Raga Attenzione eh Importante Molto importante eh Ne vale della nostra Reputazione Quindi queste no Queste no Queste sì Probabilmente ste due E l'altro gruppo Eh già Eh vabbè Sono d'accordo Vai a posto What are the chances I could get some play here Ew Go away We're not into Uh Intergesci tutte le signorine Nella stanza del party A sorpresa Mi dispiace fra fare le bionde Raga Tutta la vita le more C'è nel senso In questo videogioco eh Eh sì Devo smettere per forza Dai però Non è mica giusto Povero Deadpool Ma poverina Tu sei morto Un milione di volte Forse questo L'ho un po' buttato Però Maia mi stanno bacchettando Ah Questa è fighissima Questa è figa 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 Raga Hai Sei morto Hai Sei contento Ancora Ma poi perché Io vorrei capire perché Mi tolgono la mia arma preferita Anzi mi hai rotto i tre quarti I tre quarti Di minchia Allora sicuramente qua Devo fare qualche cosa Quindi io andrei sempre qua Munizioni meno tre Regà Io potenzierei questo Fin quanto posso Io aggiungo dieci colpi Assolutamente Regà È troppo più forte Ok 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 Vabbè fuori di testa No Secondo me anche Un po' troppo Di che cosa stiamo Ma c'è È un gioco che va C'è che rompe Completamente Tutte le regole Di qualsiasi cosa Vabbè Questo si fa Questo si fa Non capisco perché Dovrei farlo Però lo si fa Cioè non lo so Magari ero Un piccolo Ester egg Magari prima Dove andare super Non lo so ragazzi L'ho fatto Ormai l'ho fatto Eh oh Pensavo di trovare qualcosa Di speciale qua Ok Quindi Probabilmente Questi qua Li vado a subire Allora io questi pezzi qua Ragazzi Ve li sto saltando Un bel po' Ve li sto Ve li sto saltando Un bel po' Perché sono molto Superare il livello Ammazzare i due tre boss Però se c'è qualcosa Di interessante Di figo Ve lo faccio vedere Io Ragazzi Hai vinto un bel niente Questo schigno Era vuoto Peccato Ma siccome Siamo gentili Abbiamo potenziato Tutto il trasporto L'abilità Di trasportarti In posti lontani Perché chi se ne frega Goditela Grazie Ok Uh Oh Sì signori Che bellissima abilità Che mi è stata appena data Immaginavo 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 Sicuramente Il pompa E tutte le altre cose Immagino Immagino Che vada preso Semplicemente Perché Ehm No Devo andare là sopra Perché se finiscono I munizioni di qualcosa Poi c'ho l'altro No Sicuramente Supero il fiume tossico Senza caderci dentro Senza toccare Bla 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 Ho fatto Ma queste Sono nuove Bene Io sta roba qua Questo Ok Allora Il pompa Quindi io C'ho queste C'ho queste E c'ho anche Questo qua Va bene Però peccato Che non lo posso Sì perché sicuramente Sarà Molto Divertente Anche questo Sicuramente Eh Però va potenziato Ci dovrebbe essere Il cagnolino Facciamo così E ce li trasportiamo Mi dispiace Ripeto che la Le pompa Per il momento Non posso Trasportare Potenziarlo Ma Ah no Ah e piano piano Mi si sta sbloccando La roba Sta cosa è strana Nel mentre Ho potenziato Al massimo Questa robetta Qua Vedete che vorrei D'uscire Alla Ok Vabbè Questa roba c'è Però eh Vabbè Ah posso Saltare Però È perché Non mi fa Correre Cioè ve lo dico Non Non mi fa Correre Qui dentro O è fatto Apposta Beh Noi andiamo a caposciate Qual è il problema Ok Ma magari Trova tutti Sti potenziamenti Ragazzi Ma magari Ok Stiamo andando Veloci Ok Ripeto Io ho un po' Di robetta Ve la sto saltando Eh Mi ha detto Coglione Ah no Che figo No ragazzi No raga Che figata Questo Con questi C4 Va bene Ok Forse penso Di aver capito Quello che vuole fare Deadpool L'ultima Va bene Allora sto Ok 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 Però penso che Però me ne devo andare Silenzioso E letale Va bene Silenzioso E letale Saremmo proprio noi Ragazzi Nessun problema Ok Quindi Se io mi metto Qua Lui non mi dovrebbe Vedere No Esatto Perché prima Ma han culato Perché stai girato male Il maledetto Ok Questo come si Ferma Te sei fermato Proprio bene Ok Questo me la Chiappo Quello non mi Fido Ok Ok Poi dietro di me A sinistra E a destra Non volevo Però per il resto Va bene No non ancora Aspetta Mo lo faccio Incazzare Guarda 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 eh Sta incazzando con me No Ma voglio vedere Potrebbe anche Potrebbe anche Non portarci a niente No Ci vediamo No Aspetta l'ultimo Vabbè Vabbè Dai Uscidiamo sinistro Però io non credo Che fosse sinistro Regà Non ci credo Proprio Ah no Dice di si Sembra strano No però Ok Ok I need so much now Oh There we go Che regà Che regà Cioè raga È una roba Fuori Di senso Completamente Ragazzi a questo Ok probabilmente Non gli faccio niente con le armi Vieni 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 Esatto quindi Probabilmente Devo fargli Una roba del genere Come reinforcements A questo non gli faccio niente Ma con calma ragazzi Rifallo Facciamo Un po' Ok Danno che Facciamo così Eh ma questo Non gli faccio niente A lui Niente 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 Vieni qua Vieni qua Esatto Perché così lo Lo rincoglionisco un po' Capito Perché per carità Ma mi fa una Fatalidi Secondo voi Beh Non sarà una Fatalidi Ma Non lo so Se Se gli faccio Qualcosa Ah peccato Lo volevo Vediamo un po' Se gli faccio Qualcosa Mica tanto Sai Ok Va bene 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 Oh con questo Oh E chi lo poteva Immaginare Anche è vero Che lo potenziate Come non mai Queste Però fischia Regà Non può Non pensavo Ok Sarà servito Fare questo Ok Ok Che Needs To absorb Our healing Factor Through Skin Contact Rogue There's no Time To Expect We Get a Suck Face Like There's No Tomorrow I'll Be gentle Darling Is that Even Legal Baby You're Sucking Too Much Of My Eh ragazzi Io non mi ricordavo sta roba Raga non me lo ricordavo Minimamente sta roba qua Ma veramente raga È fortissima Fa dei danni incredibili Andiamo bene Cioè one shot praticamente Non paratevi che a me me dà molto Non so se posso Spararmi Non lo so quello che fa ragazzi Però Ah non sparo non faccio niente Ho solo sta roba qua E beh quindi non è che sia fortissima Parliamoci chiaramente Deadpool è molto più forte Lei fa un paio di combo Per carità Però è più forte Deadpool Eh sì perché loro poi quando si parano Eh diventa One problem Va bene Ok Qui un po' di casino abbiamo fatto Deadpool Eh Ma io non ci voglio credere C'è proprio a calci Deadpool Vai Ok forse ci stiamo riprendendo Non ci credo Mr Snookums What are you Ok Io spero che il cane stia bene In qualche maniera No guts No guts No gorge Ha ha Did you see what we did there About the Forget it How profound Ah ragazzi Oh All right The cot is ready Pull that lever to open the gate Ok I'm pulling this lever Right here Eh vabbè Eh vabbè Ah Premi ripetutamente Ah ok 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 Ah 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 Proprio così di cattiveria Scusatemi ma Sì Oh allora ragazzi Io Senza cattiveria No Però capite che questa Mitragliatrice Deadpool angry Va bene Scusatemi ma Cosa sta succedendo Ah Ok 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 Quindi doveva succedere Questo Ragazzi Fuori di testa Ok Ah Emo Classica Ok Posso sapere Ok Che cazzo Era sta roba Che non ho Ah Scommettete Che io devo fare Così Ok Ok Scusatemi Ehm Ok Ok quindi penso di aver fatto Qualche piccolo casino Ma va bene Wow Qui è parecchio Figo Quindi là diventerà Complicato Quindi noi andiamo qua sopra Apriamo La porta Però io ho visto Una esatto io ho visto Sta roba qua che roba è Ok no allora quindi Noi facciamo i bravi E ci andiamo a prendere Tutte ste casse non me ne frega niente Se le casse le ho prese Ed erano anche Tante 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 cioè tipo Sti grandissimi Fago sul carello E faccio così Ok Vabbè molto All'Indiana Johnson No Ok Ho capito che gli dovrei fare Ok Io vado di bomba ragazzi Che secondo me è più forte qua Madonna ragazzi Comunque Sto gioco è In Cre Pi Vi Le Uuuu 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 Sto arrivando Kebole Sto arrivando Si Si Voila Ok quindi Quando recupero Uno spirito Lo devo portare lì E chissà perché Mi immagino che Sti spiriti Se non li porto Non me fanno passare Sono abbastanza sicuro Ok Ah hai capito Oh regà ma io non me la ricordo Proprio sta roba qua Regà ma non me la ricordo Mai Ma mai 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 Va bene Ok quindi Ah devo andare dentro Qualche portale Va bene Quindi Facciamo il primo portale Ragazzi Dai facciamo il primo portale Va Va bene Va bene Va bene Veloce 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 Dai Ok Sta Succedendo Rob Ti devo dire morte Che Hai il tuo però Arrivo Arrivo Se mi facesse muovere Lo farei molto volentieri Eh tesoro mio Io l'ho capito Mi si è bloccato Il personaggio Va bene Molto molto bene Questa cosa Ok 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 L'ho sbagato Con una granata Ragazzi Va bene Va bene Va bene Addirittura Cazzina Ma Ma Ok Ragazzi è fuori di testa Sto Ok Evoghiamo lo spirito Eh Sì Guarda dei punti che ho Ok Ok Quindi Ok Ok Eh È un micro tesoro È un gran Eh Sì Ah Questo Ah E ho preso Quello piccolo Ok E quindi Vado a quello Grande Mi prendo Mi prendo il tesoro Uh Madonna Raga Ma perché mi stanno potenziando così tanto Ma raga Sta roba è fuori di testa E in più apro anche questo Uh È Fantastico Quindi praticamente adesso Ridivento piccolo E me ne vado qua Ma no ragazzi Ma è fuori di testa Ui ui Mancano due prove Vabbè ne sono contento C'è un'anomalia Non mi dite Oh Oh mio dio Però praticamente Non gli faccio Niente Allora Questa è quell'altra Eh Otto 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 Banana Gli elefanti non possono Non spazio Banana decisamente La prova finale Ma quello riesco Si riesco a farlo fuori Se Se gli prendo la testa E che non è così difficile Che non è così difficile Ok E l'abbiamo fatto Perfetto 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 Quindi mi manca Un'ultima prova Sasso Ah Eh Non ci credo Ah Ninja Sono troppo forte Cosa batte Cosa batte Uno scarafaggio Ah Ma dovevo leggere davvero Un piede Un topo Un uomo Cosa batte Il fuoco L'acqua Ah Hai capito Perché pensavo Che era una cosa a caso Invece no Eccomi Eccomi Ma Ma cosa No ragazzi Io non ci sto Capendo Niente Sapete che significa Niente Ok E quindi dovrei Riandare Nuovamente Da morte Ma Ma Prima Ad andare Da morte Io farei Sta roba Qua Regà Sono Pienissimo Di roba Questa è Tutta potenziata Eh Il pompa Regà Me lo fanno potenziare Poco Pochissimo Alla volta Eh Ma questa è un po' Una cacatella Regà Io aumento Il danno Del 25 Mi aumento Anche la pistola Perché È importante Però Boom Va bene Ragazzi Io sto A 55 Minuti Di registrazione Spero che il video Vi sia piaciuto Se fosse così Mi raccomando Pollicione in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Al prossimo appuntamento Vostroggio 89 Ciao 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 ciao